Un giglio rosso donato dagli ospiti della casa circondariale di Crotone all'arcivescovo Angelo Panzetta, recatosi nella struttura per porgere loro gli auguri di Buon Natale. La preghiera del presule quest'anno si unisce non solo a loro, ma soprattutto ai lavoratori a Bramo che stanno passando momenti difficili. Una delle aree più fragili d'Europa, ci sono tanti segnali preoccupanti di precarizzazione del lavoro e quindi di disumanizzazione. L'arcivescovo parla di disumanizzazione e il Natale è volto proprio all'umanizzazione, specie in un territorio pieno di luci, come il servizio verso il prossimo, la mensa dei poveri, la diaconia del sociale. Ci sono nel nostro territorio tanti eventi umanizzanti che scandiscono non solo la trama dell'Avvento, del tempo di Natale, ma la quotidianità di mense che assistono i poveri, la quotidianità di dormitori che accolgono i senza tetto e soprattutto l'evento dell'umanizzazione, uno degli eventi più grandi dell'umanizzazione, che è il servizio educativo. Il mistero del Natale, Gesù è venuto per gli ultimi, per i poveri e dunque penso che il Natale sia un messaggio di speranza innanzitutto proprio per chi è nella prova. Ed è bello anche che, diciamo, la festa che si respira in città si trasforma in tanti gesti di accoglienza per chi è nella prova e nella difficoltà. Io sono stato a celebrare proprio stamattina alla Casa Circondariale, ho visto per esempio queste persone che vivono in un momento anche drammatico della loro vita, però con la luce di una speranza, di un futuro rinnovato, con desiderio di ricominciare, che la misericordia di Dio che si è manifestata a Natale rende possibile per tutti. Quindi facciamo festa, ma non manchi il segno di attenzione, soprattutto per coloro che sono in difficoltà. E l'augurio invece generale per tutti i fedeli? Qual è da parte sua? Sì, l'evento del Natale in fondo è l'umanizzazione di Dio. L'augurio che faccio a tutti nella luce del mistero di un Dio che si è umanizzato, che diventiamo tutti un po' più umani e quindi che ci trattiamo con un po' più di rispetto, che riconosciamo la dignità umana, soprattutto lì dove è calpestata. Il pensiero è rivolto alle famiglie dei dipendenti Abramo. Io intanto voglio dire che la comunità cristiana e io in prima persona mi darò da fare perché si adesta l'attenzione sulla situazione di queste persone. Però non c'è dubbio che questa situazione chiama in causa l'assenza di un progetto industriale, produttivo sul nostro territorio che sarebbe opportuno. Noi abbiamo tante piccole realtà, ma forse ci manca proprio un progetto di massima all'interno del quale evitare che anche uno ha una progettualità importante e si perda. Quindi non è solamente... La cosa primaria è il fatto che venga meno il sostentamento per queste famiglie. Ma non c'è dubbio anche che quando chiude un'attività sul nostro territorio si perdono professionalità, si perde un sapere che è veramente difficilmente riproducibile. Dunque noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo perché la nostra città e il nostro territorio diventi attrattivi invece in vista delle attività produttive. Insomma, lo sviluppo ha bisogno di lavoro. Il lavoro è indice di umanizzazione di un territorio. Noi vogliamo che la cultura del lavoro e della responsabilità abiti ancora nel nostro territorio.